Amici miei, benvenuti su jincuber.it. E che cos'è Yes I Can? Questa è la nuova stagione. Yes I Can è un viaggio dove noi lavoriamo proprio per chiacchierare con le persone. Vi presento Alessandra. Salve a tutti. Allora, Ale, perché hai deciso di cercarmi o candidarti per fare Yes I Can? Innanzitutto perché ho visto le tue richieste sui social, su live e perché ho deciso di rimettermi in gioco come donna e di riprendere in mano il mio essere donna fisicamente e mentalmente. Allora, parlando di questo, volevo spiegarvi, ragazzi, un vecchio, diciamo, amico di Yes I Can, ho tanti video, lo vedremo insieme, per spiegare qual è il mood, qual è questo mood di Yes I Can. Il nostro mood è di avere delle donne che si raccontano storie vere, no? Perché essere donna è tanta roba, ho sbaglio. Tantissima roba, non sbagli, non sbagli, no, assolutamente no. Perché dobbiamo sentirci super donne, no? Allora, io voglio farvi sentire un'amica che si chiama Daniela, che ha fatto parte del nostro Yes I Can e andiamo a ascoltarla insieme, lo faccio partire e ascoltiamo. Io mi sono candidata per fare Yes I Can per ritrovare la Daniela di un tempo, la Daniela iperattiva, la Daniela sportiva, la Daniela che ha voglia di muoversi continuamente, non la Daniela che sta ferma e che fa la passeggiata col cane, però lì si ferma la sua attività fisica. Voglio ritrovare quella voglia di allenarmi, quella grinta che avevo nell'allenarmi, che mi piaceva tanto e che adesso non ce l'ho. È la vita che ci deve essere sempre, a qualsiasi età, perché noi invecchiamo anagraficamente, però in realtà, certo, a meno che non ci siano problemi particolari, e insomma tutto il resto si può fare, Yes I Can, si può fare, perché siamo vive, finché c'è vita c'è speranza per tutto, quindi siamo vive e dobbiamo vivere. Daniela vuole fare un augurio a se stessa di affrontare ogni giorno come fosse il primo giorno della nuova vita, non l'ultimo, il primo, perché c'è un grandissimo percorso davanti a me da dover fare, ma in tutto. Questo è il mio augurio, di avere sempre questa voglia di andare avanti, di vivere pienamente ogni istante, ogni istante della mia vita. Noi, nostra amica, ci parla proprio di questa voglia di vivere, la parola è giusta, lei ha detto io voglio vivere, la voglia di vivere. Da donna, arriviamo a che età secondo te passiamo da quella spensieratezza dei nostri 20 anni a questo, diciamo, pesantissimo legato agli obblighi da donna, da donna a donna? Ma probabilmente quando si diventa mamme, perché uno ha la responsabilità dei figli, a qualsiasi età uno diventa mamma, che siano 20, 30 o 40 anni, ci si rende conto che si ha degli obblighi verso qualcuno di indifeso, qualcuno che ha bisogno di te e vive solo in funzione del tuo amore, della tua cura, e quindi lì senti l'obbligo di dover dare qualcosa a qualcuno. Però vogliamo anche dire la verità, quando cominciamo a dare alla luce i nostri prole, che adoriamo, assolutamente sì, però cambia radicalmente il fisico della donna, perché le anche, non so se tu lo sapevi, ma le anche per prepararsi per il parto si allargono, abbiamo un rilascio di un ormone che rilassano proprio le legamenti che tengono il bacino e dopo che diventi mamma ti cambia anche fisicamente. La conformazione, sì. Che cosa è cambiato nel tuo corpo dopo la gravidanza? Allora, innanzitutto, vabbè, ho preso del peso e io già avevo una forma dove accumulavo più grasso nei fianchi e all'addome, però si è proprio, si è dilatato il bacino, non è ritornato, non sono ritornata con una forma, ripeto, non sono mai stata... Filiforma. No, assolutamente no, però mi è rimasto, mi sono, mi è rimasto il bacino largo e la conformazione a pera, si può dire? Sì, sì. Con formazione a pera, con un'accentuazione di grasso, di grasso sull'addome, questo sì, a livello fisico proprio. Sei riuscita dopo, allora, io voglio... Allora, sono riuscita a perdere il peso che ho accumulato durante la gravidanza, quello sì, però nonostante io abbia recuperato il peso pre-gravidanza, il fisico non è mai più tornato come quello di prima. E poi arriva un certo momento della vita che a causa della vita o a causa magari di tante situazioni, una perdita non portata. Eventi avversi, no? Sì, quelli che non te le aspetti e cambia radicalmente il tuo approccio con te stesso. E arrivi, e Yes I Can serve per questo, di arrivare a questo punto dove noi cominciamo a dire valgo, agisco, cambio e si può a qualsiasi età. Ma andiamo a ascoltare un'altra, diciamo, un'altra testimonianza delle nostre amiche di Yes I Can. Siete pronti? Andiamo a ascoltare. E perché? Allora, innanzitutto voglio iniziare a guardare me, in primis, e non più gli altri, quindi non più fare, insomma, l'aspettatrice, ma essere parte attiva del mio cambiamento. I risultati che ho ottenuto sono stati la perdita di 9 kg ad oggi e ovviamente non ho intenzione di fermarmi. Io non so se l'avevo già detto, ma ho passato un periodo di isolamento in cui stavo praticamente sempre sola e non parlavo con nessuno. E invece adesso ho imparato a condividere, quindi condivido con il gruppo di Yes I Can, parlo di più con mia mamma, con i miei amici, con il mio gruppo di lavoro. Adesso anche l'alimentazione è tornata ad essere, diciamo, un'alimentazione normale. Mi piace prendermi cura di me, quindi scelgo gli alimenti giusti, non ho bisogno di schifezze, però il conto è mangiare una cosa perché mi va, è un conto è farsi una buffata, sono due cose diverse. Non mi sento in colpa e quindi per me questa è una grandissima vittoria. Io sto rinascendo grazie a te che mi hai dato la forza di iniziare questo percorso, perché io non mi sarei data fiducia, però grazie a te che mi hai scelta io pezzetto per pezzetto sto riconquistando la mia vita. Quando noi parliamo delle donne, quanti si amano le donne? Aspetta, faccio un'altra domanda. Tu mi puoi dire mi amo o mi accetto come sono? Nì, nel senso che io ultimamente non mi amo ma non mi accetto molto per quello che sono, perché ho difficoltà ad accettare i cambiamenti che il mio fisico, il mio corpo sta avendo in quest'ultimo periodo. Allora, parliamo di questo, i cambiamenti. Ci vuoi condividere quanti anni hai? 50 anni. Io ho 50 anni e ho subito otto anni fa un intervento di isterectomia e quindi sono entrata in una menopausa chirurgica che mi ha portato nel corso di poco tempo a dei cambiamenti notevoli, soprattutto come donna, perché mi sono sentita all'inizio privata di ciò che mi faceva sentire una vera donna, quindi con dei problemi a livello psicologico importanti e dei cambiamenti fisici notevoli, non solo un aumento di peso, aumento di peso localizzato all'addome, cambi di umore. non mi sentivo abbastanza per il mio compagno, per il mio marito. Mi sentivo come se non fossi più all'altezza del suo amore e quindi questo mi ha portato ad avere dei problemi relazionali. E poi non mi sentivo più donna, non mi piacevo più, non mi piacevo più. Fino a che poi ho incontrato sul web i mitici webinar motivazionali di Gille, i famosi 5 minuti, dove lei in soli 5 minuti riesce a trasmettere tanta energia. Sei empatica, sei veramente empatica. Questo lo continuerò a dire perché tu riesci a trasmettere tanto e tanta motivazione e tanta energia. Piero, ti sei sentita sola durante quel periodo, 8 anni fa? Sì, in quel momento sì, mi sono sentita tanto, tanto sola. Ma non perché non avessi l'amore e il supporto della mia famiglia, mi sono sentita sola come donna, come l'essere, essere donna. E parlare con te, vedere e ascoltare quello che tu dici, mi fa capire che in realtà io non sono sola. Ci sono altre persone che come me hanno vissuto, vivono e hanno delle problematiche più o meno importanti perché non esistono solo le donne che hanno subito un'isterectomia o donne che sono entrato e stanno entrando in menopausa, ma ci sono donne che sicuramente hanno anche altre problematiche. Ma non siamo sole. Però adesso andiamo a ascoltare un'altra amica. Certo. E quando rientriamo da questa chiacchierata, da questo bellissimo contributo, voglio chiederti che cosa vuoi da me, che cosa vuoi ottenere da me? Però aspettate, non rileviamo ancora. Però non svegliamo niente perché voglio farvi ascoltare un'altra ragazza che ci si racconta qui a Yes I can, da donna a donna. Ascoltiamo. Tu hai tanto da dare alle persone che ci stanno guardando perché una donna timida spesso e volentieri viene calcolata. La gente ti presta un'attenzione quando sei timida? Diciamo che io sono timida a impatto o se sono al centro dell'attenzione perché poi fondamentalmente sono molto amichevole, molto socievole. Questo programma mi ha portato a pensare un po' più a me stessa, a valorizzarmi. Da quando ho ripreso in mano la mia vita non ho più problemi fisici. Cioè non ho risolto tutto, non ho più quei problemi di attacchi di panico, di reflusso, di ansia. Adesso sto veramente bene. In pochissimo tempo non me la sarei mai aspettato. Adesso mi accetto di più. Ogni volta che mi guardo allo specchio sono diventata anche un pochino più vanitosa perché comunque mi piaccio. Allora, fino adesso ho perso 4 kg. Di centimetri in realtà non li ho presi, però ho visto dalle foto che mi sono fatta un bel cambiamento. Mi sono sgonfiata molto ai fianchi e anche all'addome. Io consiglio a chiunque fuori di candidarsi perché è un'esperienza che secondo me ti cambia la vita. Basandomi sulla mia esperienza da una persona, come dicevi, timida, insicura e che aveva paura ad esprimersi, ora io mi sento sicura, meglio con me stessa e soprattutto so quello che voglio. Perciò ho preso un po' consapevolezza di me e quello che voglio dalla vita. Sentirsi sicura. Allora io volevo parlare della timidezza di Sara perché è una domanda che secondo me tutte le donne temiamo le giudizie altrui. Da quando siamo giovani siamo giudicati sull'aspetto, gli uomini mettono la panza e lo chiamano sostanza. Noi dobbiamo sempre essere schiavi di questo obbligo dell'essere belle o giovani o quant'altro. Allora che cosa ti potrebbe rendere più sicura di te? Che cosa potrebbe aiutarti a sentirti più sicura, più sicura è la parola giusta? Più sicura? L'accettazione di me stessa riprendendo un po' di armonia nel mio fisico, perdendo un po' di peso, ritrovando quello che era secondo i miei occhi, la mia armonia, la mia silhouette, io riacquisterei sicurezza in me stessa per poter dire io mi piaccio, sono bella, per cui sono bella io, non mi interessa il tuo giudizio. Vorrei che tu mi trasmettessi la tua sicurezza, il tuo mood. Allora, cominciamo a chiacchierare e voglio cominciare a dire anche un po' delle cose che voglio regalarti per aiutarti ad avere questo risultato. Prendiamo di metabolismo. Tu mi hai detto, quando sei entrata, mi hai parlato proprio del fisico stesso, il metabolismo, e poi mi hai parlato del sonno, corretto? Allora, spiegami a che punto sta il tuo metabolismo, sta rispondendo o non sta rispondendo. Allora, il mio metabolismo era completamente rallentato perché essendo entrata in menopausa ho preso all'incirca 10 chili, aumentando di peso sull'addome e sui fianchi. Poi da settembre, fine settembre, ho iniziato a prendere la mattina il caffè verde e la garcinia prima di pranzo. Ho ottenuto dei risultati, sono riuscita a perdere quei due o tre chili, però non riesco ad andare avanti perché ho una sensazione di stanchezza pomeridiana. La mattina con il caffè verde riesco a recuperare un po' di energie, però nel pomeriggio tendo a scimare, mi sento stanca, non mi sento molto motivata. È anche quello, è anche perché poi la notte dormo male. Dormi male. Mi sveglio in continuazione. Questa è una conseguenza, può essere una grande conseguenza del menopausa. Chi entra in menopausa, non è detto, ma può succedere che noi abbiamo, purtroppo durante la menopausa, un peggioramento della qualità del sonno. La qualità del sonno scema o riduce con l'età, questo succede anche agli uomini, perché cominciamo ad avere meno capacità di dormire tutta la notte per la durata della notte. E non ti preoccupare, il tuo sonno sarà avverrata, perché adesso voglio parlarti del primo prodotto che io ti sto per mettere sul tuo percorso, perché io con Yes I Can che cosa faccio? Darò dei percorsi, questi percorsi saranno per la durata di un mese, in 28-30 giorni, poi ci rivedremo Alessandro fra un mese e andiamo a capire come aiutarti a vedere quello che succede. Ok, allora parliamo di Metaboost Day e Night, perché? Mi parli, ok, caffè verde è eccellente per il nostro metabolismo, ma Metaboost, come dici, dà ancora più potere al tuo metabolismo. Lo prenderai un Metaboost Day, la mattina, per riattivare il metabolismo, che ti aiuta per tutto il giorno, e poi di notte c'è Metaboost Night, che aumenta l'aiuto di consumare o metabolizzare i grassi di notte, dormire più profondamente per tutte le notte per rigenerarti, che ci aiuta anche l'autofagia, che vuol dire il consumo delle cellule vecchie, inutili nel nostro corpo, che è molto importante, che succede solo di notte quando siamo addormentati profondamente, e ti aiuta a svegliare e rigenerata, perché noi produciamo soltanto di notte la GH, o quando siamo addormentati, perché le puoi fare anche di giorno, quando siamo profondamente addormentati nella fase 4, arriviamo a produrre l'ormone della crescita, che si chiama GH, o io lo chiamo l'ormone della ricrescita, così il primo regalo che ti do saranno questi due, aspetta perché poi ti do anche la sacchia, tienila qua per un attimo, e poi ti dico un altro prodotto meraviglioso, Melissa Composta. Melissa Composta è un fitoterapico, che noi utilizzeremo solo di notte, questo è proprio per dormire, ok, rilassa, e ti aiuta a quello che si chiama monkey brain, ok, monkey brain è il cervello che ti sveglia di notte, le due e tre di notte, e ti parla, e anche se tu tenti di dormire, come e che cosa succede? Non ci riesci, perché ti segui il discorso del tuo cervello, è come se parlassi a me, sì sì sì, io mi sveglio pensando a quello che ho fatto, a quello che devo fare, alcune cose che mi sono successe, sì sì sì, fai certi ragionamenti con te stessa. Si dice, il cervello della scimmia, ok, e ce l'abbiamo, e questo è il secondo. Allora, la tua opportunità includerà, ok, integratori, includerà la bellezza di allenamenti, farei la mia palestra online, ti faccio fare allenamenti, ti farò fare anche mindfulness, ok, per i webinar, pensare, e andiamo a curare il sonno. Io penso già, entro pochi giorni, con il sonno migliorato, noterai anche meno gonfiore. Però andiamo avanti, perché tu mi hai parlato del fatto che, da otto anni, sei in menopausa, senza sostitutive. No, assolutamente no, no, terapia sostitutiva, con la bellezza delle vampate che vanno, vengono, il nervosismo, l'irritabilità, che arriva quando meno te lo aspetti, e faresti la guerra, anche con il moscerino, che ti passa davanti al viso, e vi posso assicurare che la faccio, e ne fanno le spese, chi mi sta intorno, purtroppo. Infatti, quando noi guardiamo, io scherzo sempre, ma quando parliamo delle favole, no, le favole, sempre una donna, arriviata con lo specchio, ma magari anche la donna, che è in balia delle onde, delle sue ormoni, perché gli ormoni, gli estrogeni, servono, per placare, calmare, migliorare la crescita dei capelli, lubrificare, migliorare le qualità del sonno, non solo, e anche nel nostro mood, perché quando entri in, come hai detto tu prima, quando entri in menopausa, diventi ancora più, non voglio dire schizzinosa, però tutto, tutto si amplifica, sì, i rumori si amplificano. Anche non volendo, è una cosa che tu non riesci a controllare, io sai quante volte mi ritrovo a chiedere scusa, alle persone che mi circondano, anche al lavoro, con le colleghe, scusa, guarda, non volevo avere questa reazione esagerata, mi rendo conto. Ecco la soluzione, c'è la soluzione qua, You Balance, ok, questa è la soluzione che adesso la facciamo per te, e questo è uno dei miei pochi integratori, perché io, quasi tutti i miei integratori, chiedo di prendere una capsula al giorno, ma You Balance è meglio prendere due al giorno, una la mattina, una la sera, e sono fitoestrogeni, che possono aiutarci a placare questi balzi di umore, i festidi legati al menopausa, e questa è una cosa che ti aiuterà a calmarti, anche per le mie amiche che sono in età fertile, vicino al tuo ciclo, se tu hai disturbi di ciclo, crampi, se hai balzi di umore, You Balance può aiutare anche a te, durante la fase premestruale, per le mie amiche che sono in menopausa, due al giorno, per le mie amiche che sono in età fertile, soltanto prima del ciclo, questo è un altro, ti do anche il sacchetto, ok, il sacchetto, abbiamo agito con Metaboost sul metabolismo, Metaboost Night è Melissa, composta per il sonno, You Balance per aiutare con questi balzi umorali legati alla menopausa, e poi Be Good, Be Good è il tessuto attivo con due tecnologie, Bio Infrarosso è la nostra Cosmesi dentro il filato, che aiuta a drenare i liquidi, migliorare gli anestetismi delle cellulite, perdere centimetri, e migliorare la qualità della pelle, ti piace come concetto? questi devono essere messi tutti i giorni, però abbiamo la versione giorno, ma abbiamo anche la versione che è pigiama, così puoi anche dormire con il comfort line la notte, ma più li metti, più risultati avremo, questo va nel tuo sacchetto, già da domani ti sentirai diversa, me la metto la firma, cioè ho una carica interiore dentro, che non avevo da tanto tempo, e mi sento carica, mi sento carica veramente, pronta, contenta, allora amici, grazie per averci seguiti, in questo percorso, la prima stagione di SI Can è andata, questa è la prima della seconda stagione di SI Can, candidatevi, e uscire vincente dalla vostra vita, perché la vita è una bella cosa, e va vissuto con i piedi ben piantati a terra, con un amore del proprio corpo, e una propria consapevolezza da donna, di dire io valgo, non puoi dire con me io valgo, io valgo, diciamo 1, 2, 3, io valgo, e all'altro dobbiamo dire yes I can, 1, 2, 3, yes I can, grazie Alessandra tantissimo, ciao grazie a te Gile, ci vediamo fra un mesetto, assolutamente sì, e grazie a voi, ciao, grazie a tutti